con la macchina meno da quanti k allora facciamo ranger over sport 60 70k più ruote del 22 mila io sono alto un metro e 87 quasi 90 vi arrivano al domenico esattamente big money esatto big e quando passa per il corridoio aziendale dice tu sei un grande a caso perché non si ricorda il tuo nome e quindi grandissimo va bene ricordando gli sposto di questa serata che sono secchezza delle fauci con il nuovo disco in uscita box doppio un doppio disco interessante interessante ci sono dei ragazzi belli ragazzi belli e poi il vagin il gin dell'agilista e detto questo speriamo che questo momento sia stato bene ci sia divertito penso che sia è un gruppo di amici che si incontra come al bar e parla di cose quindi ci sarà scappato il termine non corretto ci sarà scappato questo questo quest'altro comunque giusto per rincurarvi siamo persone competenti quindi non siamo tre pirla che sparano cazzi a caso e quindi speriamo comunque di aver messo anche un sorriso e aver dato aver passato la spontaneità nella nostra passione in tutto questo vi ricordiamo il nostro sito www che e poi è l'internet davide esatto sull'internet potete entrare sull'internet apri l'internet con il chrome esatto e aprendo l'internet scrivi www però diciamo una cosa se lo apri con l'internet explorer potrebbe non andare sì ok apri apri con il chromecast con il chromecast addirittura www agelforital.com c'è tutto il podcast su tutti i canali principali anche formato questo pubblica paolo ormai affezionato e ammolamento e vi salutiamo e cordialmente ci salutiamo ciao 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 grazie